Qual è il concetto chiave dello scrivere? C'è un modo, un metodo secondo te che in qualche modo poi fa la differenza? Il concetto chiave è l'inquietudine, nel senso che nessuno scrive di cose pacificate, nessuno scrive di cose risolte né di cose capite. La scrittura nasce sempre da una domanda, da un rovello che attraverso le parole sistema concetti che in altro modo non sono ordinabili. Parto spesso da una domanda, da qualcosa che io stessa non riesco a comprendere e il linguaggio e la sua strutturazione mi aiutano a capire meglio quale può essere una direzione. Devo dire che il confronto sulla rete con le persone che quotidianamente seguono il mio lavoro è una parte essenziale di questo processo ed è qualcosa che vent'anni fa non c'era. Grazie per la visione!